preferisci scontare dieci anni in cella o dieci minuti di memorie artificiali il progetto con i fai consiste nel sostituire la detenzione con una sorta di cura da ludovico ma ancora più invasiva qui infatti non si tratta di riflessi condizionati ma di impiantare direttamente nel cervello del condannato delle memorie artificiali al fine di modificare il suo comportamento futuro in pratica mettiamo che una persona venga arrestata e condannata a dieci o a diverse decine di anni di carcere l'idea di base è anziché tenerlo dentro tutto quel tempo il che costituisce fondamentalmente un grande spreco di soldi visto che il carcere non rieduca affatto e anzi spesso una vera propria scuola di criminalità perché non rieducarlo davvero in questo caso tramite l'impianto di ricordi artificiali direttamente nel suo cervello come prima cosa viene effettuato una dettagliata scansione del cervello del criminale e successivamente vengono sovrapposti ai suoi ricordi originali dei ricordi artificiali ad esempio per fargli rivivere l'esperienza dal punto di vista della vittima alla fine del trattamento il detenuto rieducato anzi direi riprogrammato viene semplicemente rimesso in libertà ora non ho capito bene se si tratta solo di un'idea avveneristica o di un vero proprio progetto in lavorazione vi citerò ora alcune frasi prese direttamente dal video originale in inglese che trovate qui sotto nella descrizione benvenuti su cognify una struttura progettata per trattare i criminali come pazienti anziché passare anni in una cella di prigione vera e propria i prigionieri potrebbero scontare la propria condanna qui in appena pochi minuti cognify potrebbe un giorno creare ed impiantare memorie artificiali nel cervello del prigioniero queste memorie articolate vivide e realistiche sono create in tempo reale usando materiale generato dall'intelligenza artificiale nella mente del criminale il tempo passerebbe in modo differente e più lento rispetto alla vita reale in modo che possa vivere esperienze artificiali di anni in pochi minuti alcune memorie potrebbero simulare gli effetti a lungo termine di azioni violente come il dolore dei familiari delle vittime o il trauma fisico ed emotivo che la vittima ha dovuto sopportare il sistema di regolazione emozionale di cognify potrebbe modulare ormoni e neurotrasmettitori per indurre degli specifici stati emozionali come rimorso e rimpianto il che è fondamentale per la riabilitazione mentre i soggetti sono sottoposti alla sessione terapeutica vengono raccolti preziosi dati da tutti i prigionieri in un computer centrale per la ricerca scientifica che aiuterà a capire la mentalità criminale e determinare il miglior approccio per contrastare il crimine nella società ci sono dei concetti interessanti qui tipo il considerare lo stato criminogeno più come una malattia che come una libera scelta e la volontà in generale di seguire un approccio pragmatico e non ideologico ma secondo me rimane inalterato quello che è il problema di base ossia e non considerare le cause sociali e collettive che stanno alle basi di un comportamento criminale il detenuto in questo caso in cura è visto qui come un'entità in qualche modo isolata unica e solo responsabile di ogni suo comportamento certamente anche intervenire su questo aspetto è utile come è utile indispensabile che ci sia una qualche pena che deve essere veloce certa e giusta se no è inutile burocrazia la pena infatti non ha un'utilità tanto in sé ma quanto come messaggio sociale ma il comportamento e la volontà del singolo criminale rappresentano una percentuale minoritaria del problema globale è lui è soltanto lui che deve scontare tutta la sua pena sì ma non è solo su di lui che bisogna intervenire per prevenire altri crimini se è vero che il crimine c'è sempre stato e sempre ci sarà e non è possibile eliminarlo al 100 per cento sarebbe comunque possibile agendo sui fattori sociali collettivi eliminarne un buon 70 80 per cento il che significherebbe sì svuotare le carceri e avere un clima di sicurezza molto maggiore per tutti quanti ci troviamo oggi di fronte invece ad un fallimento del sistema carcerario con un enorme sovraffollamento un enorme costo e un enorme recidiva ossia persone che una volta uscite dal carcere delinquono come e più di prima e la causa principale secondo me dell'attuale fallimento è la presenza dei negazionisti forcaiori coloro che andando contro ogni evidenzia scientifica sostengono che dietro il comportamento del singolo criminale non ci sia alcuna causa sociale e collettiva in parole povere alcuna causa ambientale questo perché ammettere questo secondo loro vorrebbe dire ammettere di essere loro stessi colpevoli quindi si illudono di eliminare il problema facendo finta di non vederlo dicendo che la sola e unica causa di un crimine è il singolo criminale che lo ha commesso e non c'è assolutamente niente che si possa fare per prevenire tale comportamento se non inasprire ulteriormente le pene questo loro schema di pensiero è dogmatico e prescinde quindi da concetti tipo contro prova empirica evidenza efficacia questa credenza perché di credenza religiosa si tratta è purtroppo molto diffusa basti pensare all'enorme successo che hanno certi influencer che non appena c'è una qualche ragazza che viene uccisa dall'ex fidanzato corrono a dire che i 30 milioni di uomini in italia non c'entrano assolutamente nulla non possono e non devono fare nulla il problema è fisiologico gli assassini ci sono sempre stati e sempre ci saranno l'unica cosa che possiamo fare è mettere a morte l'assassino una volta preso dopo che è commesso l'omicidio non c'è alcun problema sociale men che mai un allarme sociale e poi gli omicidi in fondo sono pochi quindi ci sta capite che ragionando in questo modo i crimini non diminuiranno mai anzi saranno solo incentivati il fatto è che la gente non ha alcun bisogno di risolvere i problemi ma solo di essere tranquillizzata e di gratificarsi sentendosi migliore di qualcun altro in questo caso del condannato e la politica risponde ai bisogni della gente c'è un crimine che ha risonanza mediatica bene prendiamo uno anche uno a caso dentro e buttiamo via la chiave e ora arriveranno i soliti bonisti bravo bravo like soldi voti e ovviamente poi i crimini continuano i ladri ti entrano in casa tua tua figlia viene aggredita o viene uccisa dall'ex fidanzato trovi la macchina rigata quella che nella metro ti ruba il portafoglio quello che va in giro con il macete come è più di prima e allora arriva un altro ancora più forca ioda ancora più di destra che dice quando ci sarò io vedrete bla 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 e tutto va avanti in un circolo vizioso vi dirò comunque il sistema proposto da cognify non mi terrorizza più di tanto in sé finché rimane una opportunità in più io stesso forse di fronte alla prospettiva di rimanere rinchiuso per anni mi farei impiantare qualcosa nel cervello o parteciperei a una roulette russa interessante anche una cosa che viene detta alla fine di quel video sia l'applicazione di questa tecnologia al campo medico in generale ad esempio alla cura dello stress post traumatico qualcuno di voi forse vorrebbe tanto poter togliere un ricordo dalla sua mente qualcosa che vorrebbe non aver fatto e non ricordare o semplicemente un trauma che ha subito e vorrebbe rimuovere sarebbe una cosa bella o forse no ma chiediamoci una cosa e torniamo ai nostri delinquenti non siamo in grado di prendere uno che ha commesso un crimine anche qualcosa di poco conto fargli capire le conseguenze di quello che ha fatto che cosa ha fatto e guidarlo in un percorso di riabilitazione facendo di sentire la presenza di uno stato e di una comunità sana dove anche lui potrà vivere ed essere felice ovviamente senza più delinquere ed essere di danno per altri questa cosa non siamo in grado di farla praticamente mai neanche dei casi più semplici perché mai allora dovremmo essere in grado di creare un sistema di intelligenza artificiale super fantascientifico in grado di riprogrammare il tuo cervello con dei ricordi fittizi ma non è che è tutta una cavolata che non funzionerà o peggio creerà dei problemi ancora maggiori di quelli che si vorrebbe risolvere si è tenuta in considerazione la complessità del problema nel suo insieme come reagirà a lungo termine la parte inconscia della mente per dirne una no perché sapete com'è ad esempio l'algoritmo che censura i contenuti sui social non è che funzioni tanto bene io qualche dubbio ce l'avrei e questo metodo come si applica nel caso di un reato che richiede sì la carcerazione ma non si tratta di un delitto efferato o violento o comunque non c'è modo di convincere la persona che la sua condotta era sbagliata si pensa ad esempio a uno che ruba per mangiare o a un reato di opinione o che riguarda la politica e se uno ha commesso un delitto in preda a un raptus e poi quando realizza mente fredda quello che ha già fatto è già ampiamente pentito di quello che ha fatto secondo questa logica andrebbe liberato già oggi e infine altro tema fondamentale una persona senza libero arbitrio è veramente un essere umano un mondo dove ti arrestano prima di avere commesso il crimine come in minority report oppure dove ti iniettano nel cervello dei falsi ricordi col sistema cognifai che mi ricorda tanto un episodio di black mirror è un mondo in cui vale la pena di vivere uno potrebbe dire beh anche quando ti arrestano per guida in stato di ebrezza magari tu non hai fatto niente di male non hai neanche guidato in modo pericoloso oppure sai quanti lavaggi del cervello ti fanno tutti i giorni quante credenze sbagliate che hai te ne mettono una giusta anche se falsa almeno è utile e poi c'è la domanda che mi ha sempre incuriosito che riguarda la nostra stessa identità metti che io mi sveglio un giorno e ho perso completamente la memoria non so chi sono non ricordo niente del mio passato non riconosco le persone che sono i miei cari a questo punto sono sempre io oppure no beh io so che sono sempre io sono la stessa persona è la stesso principio vitale però al contempo non sono più io quindi sono io o non sono io boh in questo pensiero che mi tormenta vado a vedermi la partita della nazionale un saluto e ci becchiamo il prossimo video